È la prima ordinanza del 2014 del sindaco Fanfani ed è destinata sicuramente ad aprire discussioni. Infatti impone delle limitazioni alle aperture nuove di sale da gioco e sale da slot machine. Nella ordinanza, che è datata qualche giorno fa, si legge il divieto di apertura di sale da gioco sia tradizionale che quelle di nuove generazioni e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani o da strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. Un divieto che poi si espande anche in quelle zone del comune di Arezzo dove si sono verificati episodi criminosi andando a provocare ulteriori effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, inasprendo le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli nonché il degrado territoriale e del valore degli immobili. Dunque è un passaggio che potrebbe andare benissimo per la zona Guido Monaco. È inoltre vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco nella città Murata, zona classificata a rilevanza urbanistica della Giunta Comunale, con una delibera del giugno 1997 in quanto tale zona è già stata precedentemente gravata da episodi criminosi, fenomeni legati ad abuso di alcol e fatti di inciviltà cittadina. Nei casi in cui si dovessero verificare delle violazioni scatterebbero delle sanzioni amministrative e anche l'eventuale chiusura della sala gioco.